Il grande amore online. Ci sono diverse persone che vanno alla ricerca del grande amore online e sperano di trovare il grande amore online. Bene, prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Veniamo all'amore online. Allora, trovare l'amore, diciamo, per molte persone significa, soprattutto in questi tempi, andare online. Si può trovare l'amore online? Bah, sì, tutto è possibile, però diciamo che vediamo quali sono le modalità per trovare il vero amore online, sui social, sulle app di incontri. Intanto devi darti un obiettivo. Tieni presente che se il tuo obiettivo è trovare un partner, diciamo, della vita, beh, online molte persone invece cercano incontri occasionali. Poi devi stare attento o attenta a una cosa. È vietato assolutamente innamorarsi online. È assolutamente vietato. Cioè non puoi innamorarti di chi non hai visto, di chi non conosci, di chi non hai frequentato, insomma, in qualche modo. L'amore è un qualcosa, è un'energia sicuramente, ma noi non possiamo sperare di trovare la fiamma gemella o pensare che possa essere una fiamma gemella se non l'abbiamo conosciuta, se non l'abbiamo... Anche perché le persone che conosci comunque online poi potrebbero essere molto diverse. Quindi oggi poi ci sono persone che fanno addirittura sesso online, diciamo, no? Che per carità perlomeno non corre il rischio di prendere malattie, quindi questo è il vantaggio. Diciamo che ogni cosa ha un suo vantaggio, no? Quindi la regola comunque è tenere presente che nei vari siti di incontri è più facile non trovare la persona giusta che trovare la persona giusta. Le statistiche dicono che nell'incontro online, visto che appunto tu non puoi fare una cernita iniziale, più o meno ogni 500 persone circa puoi trovare quella giusta. Quindi mediamente, diciamo così, devi incontrare, conoscere, diciamo in qualche modo, circa 500 persone. Quindi non è vero che si risparmia tempo rispetto alla vita reale, perché nella vita reale, beh, tu fai già una selezione, diciamo, subito, rapida, insomma, senza... Nonostante che la tecnologia, diciamo, permetta magari anche videochiamate, eccetera, però diciamo che non è mai come incontrare una persona live, insomma. Quindi questo devi tenerlo presente. Diciamo che online si possono conoscere delle persone. Ci sono dei vantaggi, diciamo così. Molte persone timide, ad esempio, online riescono a superare un po' la paura del rifiuto, no? Perché comunque essere rifiutati online non è come essere rifiutati dal vivo. Tra l'altro, appunto, puoi portare avanti online tante conoscenze, tanti contatti in parallelo. È molto facile, per cui non ci sono... Cioè, i rifiuti vengono vissuti in modo molto minore. Quindi anche chi ha l'imprint in suo rifiuto riesce a gestirlo tranquillamente online. E questo è un vantaggio. Però bisogna tenere presente anche un discorso legato alla sicurezza, perché le persone comunque le conosci parzialmente, per cui non è semplice, insomma. L'importante è fare una scelta, diciamo. Ci sono alcune regole anche per gli appuntamenti online. Quelli che non rispondono mai o rispondono dopo due o tre giorni, lasciali perdere. Perché vuol dire che, come minimo, saranno impegnati con tantissime persone, per cui è probabile, molto facile, che siano sposati, libertini, eccetera. Quindi il fenomeno del ghosting online, poi, è un fenomeno che si verifica molto, molto spesso. Cioè persone che spariscono, con le quali magari tu pensavi che ci fosse un... Pensavi che ci fosse chissà quale feeling, invece poi, appunto, le persone se ne spariscono subito. Quindi questo è tipico, la sparizione online è tipica. Ci sono anche tante persone che mettono fotografie fake. È molto meglio, se devi puntare, conoscere online, andare su social, che è su app di incontri. Perché è l'app di incontri, è probabile che spesso sia fake. Meno, meno probabile, i profili Facebook o i profili Instagram, che sono più, diciamo così, vedi se è un profilo Facebook, è un profilo farlocco, oppure no, insomma, dal numero degli amici, dal tipo di foto, insomma, ci sono tanti modi per vederlo. Quindi non sto dicendo che è meglio, è più sicuro, eccetera. Però ti dà qualche garanzia, qualche garanzia in più, insomma. Poi ci sono 250.000 app di incontri, alcune specializzate magari per... una certa tipologia di persone, devi cercare eventualmente l'app giusta. Però è importante, secondo me, se proprio uno non ha urgenze particolari, di interagire attraverso i social. tendi a mettere delle foto che ti rappresentino al meglio, ma questo meglio non deve essere un meglio farlocco. Perché poi, comunque, se ci sono delle situazioni in cui vedi la persona, è molto meglio che la persona ti giudichi migliorato di persona che peggiorato. Occhio a tutte quelle persone che mettono solo foto, profili con occhiali da sole, maschere e quant'altro. Oppure mettono foto farlocche, palesemente farlocche. Ecco, queste devi subito tagliare senza stare a evitare. Anche persone con un profilo molto generico, sempre su Facebook, post generici, che si vede che sono stati messi lì apposta, è probabile che sia un account, tra virgolette, fake di qualcuno che probabilmente è sposato o altre situazioni, insomma, o profili semivuoti. Quindi queste sono cose che devi cercare di capire, insomma. Dopodiché, dopo la conoscenza online, deve venire la conoscenza telefonica. Insomma, dopo qualche giorno ci va la conoscenza telefonica, la chiamata, la videochiamata, e capisci come si comporta quella persona, insomma. È importante cercare di capire quali sono i suoi hobby, quali sono i suoi interessi. Presta attenzione alla grammatica come scrive. Ci sono certi sgrammaticati che quelli taglieteli pure dai piedi, perché sono, insomma, a meno che non lo sai pure tu, sono persone che devi tolgerti dai piedi subito. Cerca di capire esattamente cosa cerca l'altra persona e vedi se, diciamo, può andare bene per te, tenendo per buono che potrebbe anche cambiare, potrebbe anche mentire. Però, diciamo che è una prima cosa da valutare anche quella. Insomma, questo è procedi con calma, la fretta è cattiva consigliera, sii sincero, sincera riguardo al tuo aspetto, è inutile farlo care, molto meglio, diciamo, manifestarsi. E quindi, per quanto riguarda la conversazione, cerca di capire come risponde questa persona, quanto tempo ci impiega, che tipo di lingua utilizza, che tempisti che usa, insomma. Vedi un attimino, cerca di decodificare, e poi, una volta decodificato, se non ti va bene, tanto vale chiudere subito, piuttosto che portare avanti una situazione di questo genere, tenendo presente che online puoi anche lavorare veramente bene in parallelo, insomma. Bene, quindi, buona caccia online. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, e seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, ma ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonando ti potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò delle risposte precise alle tue domande. Ciao a tutti!